Buongiorno ragazzi, oggi vi portiamo a Venezia, Murano e Burano. Appena arrivati a Venezia andiamo subito a prendere il battello per Murano con un abbonamento giornaliero di 25 euro. Oggi è anche il primo giorno di Carnevale e iniziano a vedersi le prime maschere. La chiesa di Santa Maria degli Angeli, Murano. A Murano visitiamo anche alcuni fornaci con il negozio annesso. Prendiamo il battello e ci dirigiamo verso Burano, isola del Merletto e delle case colorate. Ogni colore identifica una famiglia. Burano view! Burano centro! Burano, iniziamo la practicese, City, Eria Per Maria. Arrivati verso il dono Sampasco! definitivamente qui, fincamente un при fortso! Come si viva il nostro volo? va il teatro alla fenice ora dello spritz select tipico di venezia spuntino eccoci arrivando in piazza san marco il palazzo ducale e la piazza si torna a rialto rialto bridge e e e